Oggi parleremo dell'abbigliamento nell'antico Egitto, è un argomento molto interessante perché naturalmente abbiamo moltissime sculture, pitture, immagini che ci mostrano dei bellissimi abiti solitamente di colore bianco che hanno fogge diverse per gli uomini e per le donne e possiamo anche riconoscere epoche diverse, tagli diversi, fatture diverse. Questo è molto interessante lo vediamo già dietro di noi con queste statue, normalmente gli uomini portavano un gonnellino, le donne delle tuniche che lasciavano a volte le spalle scoperte, ma vedremo che durante le epoche queste mode cambiano, in molti casi i vestiti erano anche unisex. Oggi vi insegneremo come fare in casa alcune fogge di abbigliamento egiziano per uomini e per donne e spero vi divertiate con noi utilizzando qualcosa in molto semplice come le lenzuola o i grandi asciugamani che potete avere in casa. Anche nell'antico Egitto infatti le stoffe erano solitamente molto grandi e potevano avere più funzioni non soltanto come abiti ma potevano essere usate anche come mantelli e addirittura a volte come lenzuola o come asciugamani dipendeva naturalmente da quanto la stoffa era nuova, quanto la stoffa era prestigiosa e fine e gli usi potevano essere molteplici. Proviamo insieme a vedere di cos'erano fatti questi tessuti. Il Museo Egizio conserva una grande collezione di tessuti di tutte le epoche che erano molto numerosi all'interno delle tombe, quindi sia dall'epoca predinastica fino ancora all'epoca bizantina e islamica, i nostri reperti illustrano una storia del costume lunga quasi 5.000 anni. In particolare è la tomba di Ka Emerit quella che ha restituito il maggior numero di reperti di tutti i tipi, quindi stoffe, tessuti di arredo e anche abiti finiti e confezionati come le due grandi tuniche appartenute a Ka, una più leggera e una di fattura un pochino più grezza, un pochino più spessa, che potevano essere anche sovrapposte. Nelle immagini spesso noi vediamo dei vestiti che sembrano quasi trasparenti, di fatto si trattava di stoffe molto leggere, quindi lavorate con un filo molto fine e molto raffinato, quindi difficile da ottenere. Più il tessuto era leggero e più era un tessuto pregiato. In molti casi vediamo anche, sia sulle statue, sia anche sui papiri e nei dipinti, delle stoffe tutte striate, che in realtà erano realizzate con dei tessuti pieghettati, una specie di plissè, che era un tipo di lavorazione molto complessa, molto raffinata e quindi avere la possibilità di vestire un abito plissettato era un'esibizione di ricchezza, perché richiedeva grandi quantità di tessuto. Anche in questo caso noi troviamo abiti pieghettati datati sia all'epoca dell'Antico Regno e li vediamo nelle statue dell'epoca del Nuovo Regno e ancora sappiamo che erano utilizzati in epoca greco-romana. Di tutti questi tessuti abbiamo grandi quantità di esempi originali, proprio perché il clima dell'Egitto, caldo e secco, ha permesso la conservazione di fibre organiche, quindi di tutto ciò che è in legno, che è in tessuto, oltre naturalmente alle mummie e reperti organici. Le mummie stesse erano bendate con strisce, fasce di lino che erano ottenute dallo stesso materiale utilizzato anche per l'abbigliamento. Allora andremo a realizzare ora un vestito tipico del Nuovo Regno, molto complesso che vediamo sia in statue e sia in immagini e che ci sembra un vestito formato da molte pezze di stoffa, mentre in verità è possibile realizzarlo con un solo pezzo di stoffa molto grande, quindi possiamo immaginare più o meno della grandezza di un lenzuolo, possibilmente di taglio quadrato. Noi ce l'abbiamo rettangolare, cercheremo di sfruttare il più possibile il nostro taglio di stoffa. Chiediamo gentilmente al nostro modello di aprire le braccia in modo da passare la stoffa per la parte della lunghezza sulla schiena e facciamo bene attenzione a portare i lembi sul davanti in questo modo. Naturalmente se abbiamo un lenzuolo molto grande lo andiamo ad aggiustare in questa maniera. Prima di tutto andiamo a chiudere quello che formerà il gonnellino, quindi questa parte sotto viene portata sul davanti, mentre quella sopra viene panneggiata sulle braccia, incrociata sul davanti, dopodiché chiederemo la collaborazione della persona che è trasformata praticamente in ramesse secondo, prendiamo una bella sciarpa o una fusciacca e andiamo a chiudere il nostro lavoro legandolo davanti e facendo bene attenzione a prendere tutti i lembi del nostro vestito. Lascio pure la mano. In questa maniera, chiudendo bene, abbiamo tutto il nostro panneggio che poi possiamo aggiustare sia nella parte davanti che nella parte superiore e forma un bellissimo vestito come quello di ramesse secondo e nefertari che possiamo vedere nel nostro statuario. naturalmente loro avevano una stoffa plissettata, la nostra è liscia, ma voi potete naturalmente sbizzarrirvi con la fantasia. Benissimo, la nostra stoffa può essere utilizzata per fare abiti maschili e femminili e in questo caso con un pezzo di stoffa corto possiamo realizzare il gonnellino tipico del vestiario maschile nell'antico Egitto. Era un gonnellino molto semplice, quindi semplicemente il pezzo di stoffa veniva girato intorno ai fianchi, in questo modo, una o due volte a seconda naturalmente della lunghezza della vostra stoffa e della taglia della persona. L'importante sulla parte anteriore è fare questa specie di risvolto che era molto importante per gli antichi egiziani, innanzitutto perché permetteva di compattare l'abbigliamento e poi perché questo sbuffo di stoffa rappresentava anche un elemento di bellezza, dimostrava anche la ricchezza di chi portava questo vestito che poteva permettersi di sprecare stoffa per fare una sorta di decorazione. Ed ecco qua che con una sciarpa, una fosciacca o una cintura noi abbiamo realizzato il gonnellino egiziano molto simile a quello che porta anche il faraone. Un altro abito che possiamo realizzare con un unico pezzo di stoffa e che è veramente tipico di tutto l'abbigliamento egiziano fino ancora alle tuniche di epoca romana è una sorta di poncio. Si prende quindi un lungo lenzuolo come questo, lo si piega a metà e bisogna sacrificarne un pochino perché con le forbici dobbiamo andare a creare un buco in corrispondenza di quello che sarà il collo, lo tagliamo quindi in modo da poter poi infilare la testa, eventualmente facendo anche un taglio verticale in modo da riuscire a far passare bene il collo, in modo che il nostro poncio sia anche comodo. A questo punto prendiamo la stoffa, dobbiamo un po' spettinare la persona che andiamo a vestire, ecco in questa maniera, lasciamo fuori le braccia. Gli egiziani non amavano moltissimo fare le cuciture e quindi solitamente non cucivano la parte sui fianchi ma si limitavano a utilizzare la solita cintura, la solita sciarpa per fare una sorta di cintura che tratteneva sul davanti l'abito. Questo permetteva naturalmente di potersi muovere con maggiore comodità e poi permetteva anche di realizzare quelle belle maniche sbuffanti e ricche di pieghe che conosciamo per il nuovo regno. Con un altro pezzo di stoffa possiamo realizzare un abito monospalla. Era un abito per lo più utilizzato durante l'epoca tarda e l'epoca persiana e si può cominciare utilizzando un grosso telo come questo sempre in forma rettangolare perché dobbiamo girare intorno al corpo. Chiediamo quindi di trattenere un primo lembo, alzare le braccia, facciamo questo giro intorno al corpo per passare dalla parte opposta e andare a legare sopra la spalla sinistra in questo caso o a seconda di come preferite anche quella destra il nostro vestito. È un vestito come vedete molto semplice che si può realizzare anche con un pareo da mare e che permetteva di far vedere soprattutto su questo lato una decorazione che in alcuni casi aveva delle frange oppure una piccola decoro. Questo ripeto è tipico dell'epoca tarda e continua a essere utilizzato fino all'epoca romana.